Ciao ragazzi, un saluto da Luca Di Leonardo, direttore di TuttoFantacalcio.it Come di consueto in questo video andrei a indicarvi i consigliati, gli sconsigliati e le scommesse della quindicesima giornata di Serie A Quindicesima giornata che inizierà con l'anticipo di venerdì alle 20.45 tra Inter e Roma Quindi ragazzi ricordatevi assolutamente di schierare entro e non oltre alle 20.45 di venerdì la vostra fantaformazione Vi ricordo inoltre che se avete dei dubbi di formazione potete scrivermi qua sotto nei commenti su Youtube Riguardo ai vostri dubbi di formazione e sarà mio onere chiaramente rispondervi nel più breve tempo possibile e speriamo di azzeccare anche le scelte Inizio a consigliarvi i giocatori di prima fascia Importa Meret, il Napoli gioca a Udine, è un Napoli che non sta attraversando un buon momento di condizione Però l'Udines in casa ha fatto appena 4 gol, quindi Meret assolutamente schierabile in questa giornata In difesa consiglio un altro giocatore del Napoli che è Di Lorenzo E' sicuramente il difensore più appetibile fantacalisticamente Ha un gol e un assist in stagione, difficilmente prende di sufficienza E' un difensore tra l'altro che spinge tantissimo quindi chissà che non possa portare qualche assist A centrocampo il nome consigliato è Luis Alberto della Lazio Bella sfida contro la Juventus, però lui potrebbe mettere in difficoltà un centrocampo bianconero che ha diverse assenze Ricordiamo che Luis Alberto ha ben 9 assist in stagione e ha segnato domenica scorsa il primo gol stagionale In attacco consigliato Lukaku dell'Inter Altra sfida importante quindi Inter-Roma Lukaku è già arrivato in doppia cifra in appena 14 partite Quindi può ancora una volta timbrare il cartellino Indico ora i consigliati di seconda fascia In porta consigliato Sirigu Nella sfida contro la Fiorentina il Torino può far bene e Sirigu può tenere la propria porta in battuta In difesa il nome consigliato è Teo Hernandez del Milan Ha trovato la terza rette stagionale domenica scorsa a Parma E' un terzino di spinta Sicuramente più valido offensivamente che difensivamente E' un giocatore che può portare dei bonus al fantacalcio A centro campo il nome consigliato è Papu Gomez Non segna già da diverse giornate Ricordiamo che ha 4 gol e 4 assist in stagione Nella sfida contro il Verona può fare la differenza e chissà che non ritorni al bonus In attacco il nome consigliato è Caputo del Sassuolo Viene da 3 gol consecutivi assegnato anche allo Stadium E' sicuramente un giocatore molto importante perché è molto lavezza al bonus Quindi contro il Cagliari una sfida non semplice Caputo può ancora timbrare il cartellino Vado ora a indicare le scommesse 3 per reparto di questa 15esima giornata Il primo nome scommesso in porta è Gabriel del Lecce E' vero che non è sicuramente una primissima scelta Però il Genoa sta avendo difficoltà ad andare in rete Quindi se non avete chiaramente alternative migliori Gabriel si può rischiare in questa giornata Altro nome scommesso in porta è Beriscia della Spal La Spal ha lo scontro salvezza contro il Brescia Il Brescia che ha appena cambiato allenatore è ritornato Corini Quindi Beriscia si può rischiare anche perché in casa difficilmente subisce più di un gol Ultimo nome scommesso in porta è Skorupski del Bologna Ha una difficile sfida contro il Milan Milan che è ritornata alla vittoria domenica scorsa a Parma Però è anche vero che Skorupski in casa difficilmente tradisce le aspettative In difesa il primo nome scommesso è Vicari della Spal Come detto prima alla Spal si gioca con Lecce una bella sfida a salvezza Vicari difficilmente in casa prende l'insufficienza Altro nome scommesso in difesa è Chiriacopulos del Sassuolo Ha trovato la titolarità quattro giornate fa Non è mai sceso sotto la sufficienza Si può rischiare in questa giornata contro il Cagliari Ultimo nome scommesso in difesa è Lucioni del Lecce Ovviamente il Lecce è una squadra che gioca meglio in trasferta rispetto alla casa Però Lucioni è un giocatore che garantisce sempre la sufficienza A centrocampo il primo nome scommesso è Pulgar della Fiorentina Ha una difficile trasferta contro il Torino La Fiorentina viene da tre sconfitte di seguito Ma lui batte tutti i piazzati Punizioni e rigori Chissà che non possa portare qualche assist o qualche bonus Altro nome scommesso a centrocampo è Ramirez della Sampdoria Regneri gli ha disegnato un nuovo ruolo Gioca esterno a centrocampo nel 4-4-2 Viene da due gol consecutivi Uno sul rigore e uno su azione Quindi direi è un giocatore assolutamente in forma Quindi si può assolutamente schierare per questa giornata Altro nome scommesso a centrocampo è Shakov del Lecce Come detto prima il Lecce sfida il Genoa in una sfida a salvezza Il Lecce ha diverse assenze tra cui Mancoso e Falco Shakov gioca sulla tre quarti Ha già fornito un assist Chissà che non possa offrire un'altra buona prestazione In attacco il primo nome scommesso è Quagliarella Quagliarella finalmente è tornato al gol Non segnava dalla seconda giornata Ha fatto una doppietta a Cagliari Ha battuto il rigore, ha fatto anche una bella rovesciata Con una bella parata di Rafael E' sembrato in forma quindi direi che nella sfida contro il Parma Si deve assolutamente trovare un posto per schierare L'ex capocannoniere della scorsa stagione Altro nome scommesso in attacco è Petagna della Spal La Spal come detto prima è una sfida a salvezza importantissima contro il Brescia E Petagna è il suo bomber Ultimo nome scommesso in attacco è Orsolini del Bologna Ha fatto una bruttissima prestazione a Napoli E' uscito tra primo e secondo tempo Mielovic l'ha un po' bacchettato Chissà che non gli abbia ridato un po' quell'energia Di cui ha bisogno questo ragazzo che è in grado di portare assist e gol Senza nessun problema Vado ora a indicare ragazzi quattro consigli Quattro sconsigliati scusate Della quindicesima giornata Sconsigliati in porta consigli Perché? Perché il Cagliari comunque è una squadra che segna praticamente ogni partita Il Sassuolo lascia un po' di spazi In difesa è un po' ballerino Quindi direi di valutare la vostra alternativa in porta In difesa ha sconsigliato Nuitink dell'Udinese Ha trovato la titolarità da poche giornate Però nella sfida contro il Napoli c'è il rischio di prendere un'insufficienza A centrocampo sconsigliato Tosbi della Sampdoria Viste le assenze di Berezinski e De Paoli Ragnieri lo sta schierando terzino destro Ma si vede che è assolutamente fuori ruolo Anche a Cagliari ha preso un'insufficienza Quindi direi di non rischiarlo in questa giornata In attacco sconsigliato Pina Monti del Genoa E' vero che viene da una doppietta in Coppa Italia Però in campionato non segna dalle primissime giornate Il Genoa è una squadra un po' in crisi Il Lecce comunque ha necessità di vincere Ecco che Pina Monti rischia di prendere un'insufficienza Ecco quindi ragazzi l'analisi della quindicesima giornata Vi ricordo che nel sito radioradio.it Sarà online l'articolo riguardante gli 11 consigliati della quindicesima giornata Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon fantacampionato a tutti Ciao ciao